Nello scenario naturale di Ailano, piccolo centro dell'alto casertano che state vedendo dalle immagini, si è svolta la seconda giornata del mercato contatino a distanza di pochi giorni dall'esordio dove in tantissimi sono arrivati per acquistare i prodotti tipici rigorosamente del Matese. C'era un po' di tutto dagli ortaggi appena colti, compreso le famose patate di Letino, che sono rigorosamente bio, e i formaggi che sono tipici di questo territorio, fatti con metodo semplice, poi i vini, le nocciole, ma anche la famosa mela annurca. Poteva mai mancare la cipolla di Alife? Ma le sorprese non sono finite. In esposizione anche i produttori di zafferano di terra di lavoro, così indicati, che a quanto ci dicono potrà avere un futuro nella microeconomia di quest'area incontaminata. Sì, io penso che ci sarà un futuro. Noi siamo organizzati in associazione, l'associazione Zafferano Terre di Lavoro, e abbiamo anche una cooperativa, la Crocus. Siamo una ventina di produttori che producono nella zona pedemontana del Matese, lato sud, e andiamo da Cerrito Sannita, Frasso Teresino, Puglianello, Raviscanina, Teano, fino a Scauri. Il sindaco del piccolo comune, Vincenzo Lanzone, ci ha poi spiegato come nasce l'idea di questa iniziativa, che a vedere la partenza lascia besmerare per il futuro. L'idea nasce appunto per chiare un attrattore del territorio e soprattutto per divulgare prodotti eccellenzi di questo territorio che non sono conosciute all'esterno o poco conosciute. Devo ringraziare Armando Vendettuoli e la dottoressa Tiranegri che hanno creduto in questa iniziativa e hanno creduto in questo territorio. La seconda giornata di questa manifestazione è percorrere la piazza, visitare questi espositori che espongono prodotti del territorio, quindi prodotti nostrani, ci riporta indietro di tanto tempo il mercato che forse una volta noi ritroviamo nei piccoli centri, cosa che con la globalizzazione non vediamo più. In futuro abbiamo molte idee, molte strategie per promuovere questa iniziativa, quella società, di farla conoscere attraverso i social e poi di portarla sul tavolo dei detti interessati, quindi dei consumatori, ma soprattutto portarla alle istituzioni, quelle più in alto, per far capire che le piccole realtà sono il motore, il volano della piccola economia, dell'economia di un piccolo centro come questo di Ailano. Da Ailano è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it